Allora io aspetto, aspetti, aspetto, sono qui a teatro, un posto sicuro. Il posto più sicuro dove fare la fame. Risponda. Risponda. Pronto? Sì, sono io, Anastasia Goffredini. Giuseppe, sei tu? Oh, grazie, grazie, hai chiamato. Io ci speravo, sai? Allora ci avete ripensato? Possiamo aprire anche noi un pochino magari, facciamo i mattinei, facciamo i pomeriggi, li facciamo dalle tre alle quattro, dalle quattro alle cinque. Ah, il teatro no. Sì, lo so fare, io sono stata in Giappone, sono brava. Ah, nel senso che il teatro non apre, resta chiuso. Tutti i teatri chiusi. E anche il cinema, sì, sì, lo so, e anche i musei. Io, sai, mi ero illusa, ci avevo sperato perché pensavo che dal momento che siamo tutti in zona gialla, c'è un leggerissimo miglioramento della curva, qualche piccola attività inizia così a vedere uno spiraglio, così, sai, dicevi a Natale per fare un po' respirare, pensavo che anche noi potevamo un po' respirare. Ah, no, dici che, certo, bisogna evitare gli assembramenti che sono pericolosi, ma lo so, figurati, certo, e ridurre la mobilità e quindi è giusto. No, perché siccome i negozi hanno l'orario prolungato fino alle 21, i bar, i ristoranti possono fare l'asporto, ci sono i pranzi e sai, quegli aperitivi magari che ti fai a mezzogiorno, no, 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 invece noi no. E quindi tutto chiuso, ecco, e anche i musei, perché sai, ti devo dire, non è che in tutti i teatri c'è sempre proprio una folla, capito? No, no, non è così facile, voglio dire, avere sempre la fila fuori, ecco, alcuni cinemini, figurati, nella mia città, certe volte massimo 10 persone, ecco, anche i musei, chiudete tutti, anche i più piccoli, quelli più particolari magari, non lo so, tipo il museo della Bora, lo conosci? Quello di Trieste, sai, quello sui venti, cioè non è che, chiudete anche il museo dei Cavatappi a Barolo? No, perché non credo che faccia più di una ventina di ingressi al giorno, magari distanziati, no, meglio per sicurezza, certo. E soprattutto immagino chiuderete anche il museo della merda. No, 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 Giuseppe, no, non lo sto scherzando, esiste, certo, è in provincia di Piacenza. Analizza tutti i tipi di cacche da un punto di vista ecologico. Non lo conoscevi? No, ma facci, fai un giro, beh, quando riapre, certo, è chiaro, sì, lo so, e quindi è meglio chiudere. Ah, 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 grazie, grazie, Giuseppe, no, ma così mi fai arrossire, io mi sento... Ma io non avevo mai visto la cosa sotto questa luce, certo, è una diversa prospettiva della situazione, quindi tu sostieni che il sacrificio di noi artisti salverà il paese. E' bellissimo! Ah, quindi se noi artisti restiamo fermi e tutto chiuso, tutti i cittadini saranno salvi, potranno guarire prima e stare meglio. Che cosa bella, mi sento emozionata, perché finalmente sento che io, attrice di teatro, sono utile. Eh, sì, anche Dario la pensa così, Dario, Dario, ma quanto c'è vicino, Dario, si preoccupa per noi continuamente, continuamente idee nuove, belle, vincenti. Sì, lui, ah, cioè lui dice che mai la cultura è stata così fondamentale in questo paese da quando è ferma. Sì, eh, non ci avevo pensato. No, ha ragione. Ah, una attività non essenziale diventa una non attività essenziale. Ma sì, ma sì. Quindi grazie a me, al mio sacrificio, una mamma potrà uscire liberamente a fare shopping e comprare i regalini al figlioletto e potranno fare la spesa a tutte le ore. Grazie a me. Ah, sono contenta. Senti, però, così per sapere, eh, ma non voglio, non vogliamo creare pressione, tu lo sai, anche con le proteste le facciamo coreografate noi. Allora, per sapere, quando si pensa di poter... Ah, non ci pensi proprio. E Dario? Ah, neanche lui. Ah, 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 va bene. Va bene, sì, ma no, perché io mi domandavo, per esempio, no, questa storia dei cenoni con le persone, sono quattro, no? Quattro al ristorante, cinque, sei a casa, però è una raccomandazione, ma, per esempio, voi come pensate di fare con i controlli? Passate casa per casa. Ah, il teatro è chiuso. Certo. E quindi con la compensazione si risolve. E le file, i centri commerciali, perché magari chiuso il sabato, vanno tutti i venerdì, il teatro è chiuso. E si risolve. È vero, è vero. E lo stesso con il problema dei trasporti non del tutto risolto. Ah, ma i musei sono chiusi. E quindi va da sé. Certo, no, ho sentito dire che invece le piste, quelle le apriamo il 7, perché magari, sai, la funivia, piccola, piccola... Ah, ah, poi i cinema sono chiusi e quindi i problemi non ce ne saranno. Bene, bene, mi sento, mi sento meglio. Beh, insomma, meglio, mi piacerebbe andare in scena, ma comunque non ci penso più, non ci voglio pensare più. Senti, riguardo a quell'idea di Dario, il Netflix della cultura, la possibilità di avere più spazio in Rai, con gli spettacoli teatrali, il teatro che si potranno mandare in onda, ma quando pensate di venire qui, alla Maison Godot, a riprendere il mio spettacolo, quando... Pronto? Giuseppe? Giuseppe? Giuseppe, non ti sento più. Giuseppe? È caduta la linea. Non lo so, però, eh, non lo so, questo colore forse a questo punto io lo eviterei, ecco. Metta questo. Ah, questo. Si addice di più. Ah, questo, sì, 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 sì. Metto questo, certo. Il nero. Il nero. Si addice di più. Chi è? Latrice Anastasia Goffredini? Sì, sono io. C'è posta per lei. Grazie. Ministero dei beni culturali, Roma. Grazie. 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 Giuseppe Conte e Dario Franceschini. Ma cos'è? Oh, che bella! Medaglia d'oro ad Anastasia Goffredini, attrice di teatro chiuso. Oh, la medaglia. Oh, la medaglia. Oh, che si chiuda! Oh, che bella! Oh, che bella! Oh, che bella! Grazie a tutti.